Benvenuti ragazzi noi siamo due bomberanto vinci ed oggi siamo tornati in questo nuovo video Allora ragazzi noi prima di tutto ci scusiamo di portarvi pochi video Ma ragazzi è per la cazzo di sfortuna del wifi Quindi ragazzi mi fa incazzare che ancora non abbiamo avuto il wifi Ma questi non sono dettagli che vi importano Prima di iniziare i video salutiamo molto Dextra Viola Elisabeth Sara Per motivi nostri E poi salutiamo Carlo Amato Francesco Prima di iniziare il video vi dico che il bomberanto la fatta di bocca La fatta di bocca al contrario E il bomber vinci una volta Però non è facile E' un'altra parte della foto E' un'altra parte La sua bottiglia Un attimo ragazzi La proveremo a fare No 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 Facciamo bene E si arriverà Si arriverà Si arriva a 5 E poi dopo pari Delle random per incendi le cose per cercare di farla Eh no si arriva a 10 No Perché oramai siamo bravi No di favore Perché se non si vede bene Però a 5 Si cambierà bottiglia 3 2 1 E il bomber Non si vede bene Non si vede bene Non si viene bene No si vede bene Eh ma non soveco è una faccia due Ok così vai Bomba è E' un 1 1 1 e0 1 1 e0 2 e0 2 e0 E' la bottiglia 1 e0 2 e0 Ma faili guardate ragazzi 2 e0 2 e0 2 e0 2 e0 2 e0 stressante selfie a casa, se ti amore, l'ha visto a te il tuo profilo instagram è molto interessante salviamo Dextra anche il dito delle mie scaricine, ooooh bombe, dove è un'ora? no 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 in questa sfida non ci può fare miei pari e i problemi della tua vita stressante ragazzi attenzione il bomber 2 sta recuperando il bomber oh c'è un altro tentativo perché potrei fare sempre la tua vita stressante rilasseremo anche il link in descrizione della nuova canzone di fabio rovazzi perché ci tengo a farvela vedere perché per le ragazzine belloni dai ci dà anche il nome il disco nuovo di clementino e rapporto ma l'unica che è rosa ohhh tipo colomini va porca porca e va ragazzi un attimo dobbiamo dobbiamo un attimo riempire un poco poco le bolle bottiglie e poi rivediamo l'abbiamo un poco ripeto e l'abbiamo un poco riempita perché era giusto una goccia bomber bomber però mettete nell'inquadratura se no non possono vedere se l'hai fatta poi dicono ma voi siete la merda ragazzi non scrivete sotto nei commenti sono tutte finte 4 a 3 stiamo siamo 4 e già diciamo anche di un pezzettino perché ci hanno imparato 3 4 a 3 3 a 2 4 5 scrivete con i suoi commenti che non c'è scusa può vincere momenti per dirvi però non è che ci fossi se lo chiamiamo giù o dobbiamo dire 5 3 6 3 ha giocato 4 e 3 6 3 ti sto che giorno tante bombe e vogliono a te bambi figuracce la mattina mezzogiorno tutta la giornata o 73 la macchina buona 74 questo per solidarietà no 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 mi dispiace no giro su ti e giro che non posso dire 8 5 8 4 scusate 8 5 8 8 5 8 4 9 4 non voglio parlare la ricetta non chiamare no 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 volete un colore non va il bombe ragazzi facciamo vedere un attimo i trucchi che fanno gli i tutti quelli tutti tipo così ragazze allora no guarda allora tutti e lì c'è proprio lo facciano incontrare 3 2 1 tipo così non ci riproviamo perché il bomber ha un po sbagliato devi premerlo subito bomber 3 2 1 ragazzi sbaglia non facciamo lo fa un attimo il bomba e glielo faccio ragazzi un secondo è caduta telecamera un attimo che ritenta l'ultima volta ragazzi non ci riusciamo a perché noi non siamo non siamo bugiati non non ha toccato a me non vogliamo che non vogliamo migliorare a fare se stronzate perché noi siamo onesti dove siamo due bombe beh vabbè dice anche lui dà più sfide di botto 9 5 giusto per la tua vita stressante vai in palestra all'estretista aggiornata oh a di se la faccia per e vince e vince e vince no ma che fa che me non botta a me ma fai mamma ora vogliamo un po' per farlo al contrario oh vai vai bombe queste sono tutte le sensate ai fan di youtube oh stanno vabbè ragazzi visto che non dobbiamo andare a studiare perché alle 5 e 20 andiamo a mandare a fare un allenamento ragazzi questo video può concludersi qua se non vi siete iscritti iscrivetevi lasciate un bel like superiamo i 22 arriviamo a 22 like per un prossimo video bella raga grazie a tutti grazie a tutti